Bergamo, sensazioni, emozioni, come si sta, come stai? Sensazioni troppo positive, tornare dopo sette anni, mi ricordo il gennaio quando sono andato via, adesso sono passati già degli anni, siamo un po' invecchiati, però mi sento veramente in forma, è successo tutto veramente in pochi giorni, da quando c'è stata questa possibilità di tornare a Bergamo, sicuramente giù ho capito che era giusto cambiare, non ho pensato più di tanto, perciò per me è una nuova vita di cambiare, sicuramente dispiaciuto di andare via da Palermo, però stracontento di essere qua. Ecco, come tu hai detto, tutto molto velocemente, quindi te lo saresti mai aspettato di ritornare all'Atalanta, di ritornare a Bergamo? Ma non più di tanto, c'è stato qualche contatto più amichevolmente, qualche mese fa, più al pensiero, come sta un amico, però basta niente di più, sicuramente è partito tutto qualche giorno fa, e come dicevo, mi aspettavo di finire giù, sinceramente, però quando è successo che giù c'avevo poco spazio, qui avevano bisogno, non ho pensato due volte. Ecco, guarda, c'è da conquistare una salvezza. Quello sì, quello sicuramente, penso che qua il tifo è abituato, la città è abituata, penso che la strada è quella di salvarci e io spero di dare il mio contributo.